Purtroppo domenica scorsa abbiamo dovuto stare a casa a guardare i risultati delle altre partite, avremmo voluto essere in campo e riscattare la sconfitta del Rielli, quindi ci siamo preparati qualche giorno in più, cercheremo di farlo domenica in casa con il Fugio, una squadra importante come lo sono un po' tutti in questo girone. Sì, è una squadra solida, fisica e che ha già un organico ben collaudato, quindi domenica hanno tenuto testa una squadra importante come l'Albalone, che forse ai punti avrebbero meritato qualcosa in più, però io come dico sempre ai ragazzi, dipende sempre dalla nostra prestazione e il risultato sarà sempre figlio dell'atteggiamento che avremo in campo domenica. Sì, è chiaro, noi soprattutto dalla continuità abbiamo fatto troppi alti e bassi in questo inizio di campionato e quindi non è un alibi, non è justificazione, sappiamo che e dobbiamo far meglio, quindi ci siamo preparati per poterlo fare, speriamo di intraprendere quel cammino che ci possa portare a un campionato importante come quelle sono le intenzioni della società.